benvenuti a tutti in questo nuovo video sul canale forex pivot range eccoci di nuovo per l'analisi della prossima settimana di quello che potrebbe accadere al cambio euro dollaro la scorsa settimana vi ho segnalato il target a 1 0 6 e 50 ci siamo arrivati quasi il cambio è sceso vedete fino a vediamo 1 0 6 65 e 7 ma prima vi ricordo che le indicazioni registrate in questo video non sono sollecitazioni a fare trading sul cambio euro dollaro e non rappresentano una consulenza finanziaria ma sono esclusivamente esempi di studio a scopo didattico sull'andamento del mercato forex allora verifichiamo subito la negatività del cambio euro dollaro su tutti i time frame vedete il cambio è sotto le principali medie mobili su tutti i time frame a quattro ore vedete il cambio ha chiuso anche sotto leggermente la media mobili a 55 periodi sul cambio sul grafico weekly vedete abbiamo due figure molto rilevanti la scorsa settimana abbiamo avuto un hammer rovesciato ok e adesso una candela negativa consecutiva quella della scorsa settimana andiamo un attimo a verificare la situazione sul grafico giornaliero rispetto a i livelli del monthly opening range di febbraio vedete 10 008 08 515 il cambio chiude ampiamente rompendo il supporto a 08 51 e 5 con due candele negative consecutive andando anche a bucare a rompere il supporto a 107 07 relativo al monthly opening range high di gennaio vedete ora qual è la previsione che possiamo azzardare per il per la prossima settimana il cambio continua ad essere negativo tuttavia per quanto riguarda il grafico a 30 minuti torniamo un attimo sul grafico a 30 minuti ecco c'è stato un leggerissimo rimbalzo dal supporto a 06 65 vedete l'ultimo supporto è 1 6 e 50 quello che avevo segnalato il massimo di questa candela negativa se la prossima settimana in apertura dovessimo avere un altro gap lower come la scorsa settimana in apertura di domenica sera e chiudere la giornata al di sotto di 06 37 il cambio andrà direttamente giù 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 ok il primo target è 0 5 33 e 1 e cioè il monthly opening high del mese di dicembre il massimo della prima candela giornaliera del mese di dicembre infatti è 0 5 33 1 ok quindi 0 5 33 1 è un target assolutamente che mi sento di segnalarvi come molto probabile per la prossima settimana se andiamo un attimo a vedere invece i livelli dell'opening range semestrale guardate 0 8 672 ormai è svanito il supporto è a 0 4 8 1 4 cioè il minimo delle prime 10 candele del mese di gennaio che danno origine all'opening range semestrale ora a causa di queste tre candele quattro candele negative la il supporto a 0 8 672 ormai è andato ok quindi è verosimile che si possa scendere la prossima settimana potenzialmente anche a 0 4 81 e 4 la conferma ce l'avremo se in finale di giornata il prezzo chiuderà al di sotto di 0 6 37 ok dopo ovviamente aver rotto prima 0 6 47 e 5 come vedete cari ragazzi e cari ragazze l'opening range che vi ho segnalato risulta essere un validissimo strumento per capire se il range se il trend del cambio è in quel momento negativo o positivo vi ricordo che quando il prezzo è al di sopra del monthly opening range del mese in corso quindi 10 0 0 8 il cambio è sempre positivo quando invece al di sotto del monthly opening range low in questo caso 0 8 51 e 5 il cambio si indebolisce e se seguite il trading attraverso il grafico giornaliero i vostri immediati supporti sono sempre i precedenti livelli dell'opening range dell'opening range del mese precedente ok quindi in questo caso visto che la prossima settimana è fuori di discussione che andremo a toccare il minimo a 0 6 49 e 9 il successivo supporto è la vecchia resistenza del monthly opening range di dicembre a 0 5 33 e 1 tuttavia mi sento di escludere un ulteriore discesa verso 0 4 81 e 4 tuttavia avremo come ripeto ancora una volta la conferma di un ulteriore discesa 0 4 81 e 4 soltanto se in finale di giornata chiuderemo al di sotto di 0 6 37 il minimo di questa candela ok ok in quel caso la discesa verso 0 5 33 e 0 4 81 e 4 è quasi scontata con vedete il minimo di questa candela 0 4 81 e 4 ora il cambio rimane negativo perché le aspettative di rialzo dei tassi negli Stati Uniti continuano ad essere molto elevate a causa degli ottimi risultati che l'economia americana sta facendo registrare nonostante gli annunci in area euro della BCE che continua a dire che farà un ulteriore rialzo il prossimo mese di 0 50 basis point le pressioni a rialzo negli Stati Uniti sono ancora più forti e quindi il mercato sta stornando rapidamente tutti i guadagni da inizio anno sul cambio euro dollaro infine voglio mostrarvi l'andamento dell'opening range semestrale sul grafico weekly vedete vi ho evidenziato l'opening range di tutti i semestri prendiamo a riferimento quello in corso 0 8 6 7 2 0 4 81 e 4 ok pertanto se verifichiamo le ultime due candele negative consecutive che si sono aperte e si sono chiuse al di sotto di 0 8 6 7 2 è matematico oserei dire che il cambio andrà di nuovo a sbattere sul supporto a 0 4 81 e 4 ok pertanto l'indicazione se siete short è di rimanere ancora le posizioni al ribasso e di tornare in acquisto esclusivamente se il cambio euro dollaro tornerà al di sopra di 0 8 51 e 5 in finale di giornata ok allora spero che il video vi sia piaciuto condividetelo spolliciate mettete un like e continuate a seguirmi anche su twitter io sono Alex Rossi da Milano vi saluto e vi auguro una buona settimana di trading con il cambio euro dollaro ciao 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 ciao